Ok, perfetto. Allora vi ringrazio soprattutto per assistere a questa presentazione. Oggi parleremo quindi di come deployare rapidamente un'applicazione PHP utilizzando i servizi serverless della GCP. Mi presento, io sono Pasquale Martucci, sono un DevOps Engineer per Decathlon Italia, lavoro in Decathlon da tre anni, arrivo da Napoli, ho 34 anni e sono un appassionato di calcio e tifosissimo del Napoli. Spero che non ci siano i juventini oggi, scherzo. Allora prima di entrare nel vivo del meetup vi mostro delle rapidissime slide introduttive sulla GCP e soprattutto vi mostro il perché abbiamo deciso di adottarla all'interno dell'azienda. Allora il GCP come sappiamo è uno dei primi tre cloud provider al mondo insieme a ovviamente AWS e Azure ma GCP negli ultimi anni ha costituito anche un vantaggio competitivo rispetto agli altri provider perché è anche possessore di una delle più grandi reti IP al mondo. Infatti nelle classifiche mondiali è al terzo posto per quanto riguarda la velocità e l'estensione di reti fibra al mondo. Questo determina un grande vantaggio competitivo sugli altri provider. Inoltre è un cloud service provider ai primi posti anche per la sicurezza, per l'affidabilità dei suoi data center e per l'attenzione alla sostenibilità. Come abbiamo detto è uno dei più grandi cloud provider e infatti può contare su 24 regioni sparse nel mondo, quindi 24 data center. Ogni data center è costituito da tre zone. Ogni zona come se fosse un data center è completamente indipendente dall'altra zona. Questo potete immaginare da un'affidabilità veramente elevata. Inoltre è presente anche con 144 network edge location che sono quei punti di smistamento dalla rete fibra di Google agli ESP locali. Ma in base a quello che abbiamo detto, perché anche abbiamo scelto quindi la GCP nella nostra azienda? Soprattutto per una ragione di costi. Infatti i servizi di Google possono arrivare, alcuni servizi o alcune configurazioni particolari della virtual machine, possono costare anche il 50% in meno rispetto ai servizi di Amazon. Altri vantaggi della GCP, come dicevamo, il fatto di poter contare su un network, su una rete privata, una rete IP privata, permette a Google di poter offrire dei servizi come il premium tier, che non è altro che un servizio di smistamento dei pacchetti di rete, veramente velocissimo perché è basato su una regola di routing che è il call potato, ovvero i pacchetti di rete vengono trattenuti sulla rete fibra di Google per il maggior tempo possibile. In questo modo avevano delle velocità e delle latenze che sono veramente bassissime rispetto agli altri provider. A differenza del classico hot potato in cui il pacchetto di rete, come sappiamo, nel routing viene smistato quanto più rapidamente possibile tra i vari nodi. Infine, ultimo vantaggio che ha determinato quindi il motivo per cui abbiamo deciso di adottare la GCP, è il fatto che Google è uno dei maggiori contributori di servizi open source, se non ideatori come ad esempio Kubernetes, o creatori di altri servizi come TensorFlow o BigQuery, quali sono dei servizi che creano veramente dei vantaggi, hanno veramente dei vantaggi rispetto agli altri cloud provider. Ma quindi ritornando sul focus del Meetup, noi abbiamo adesso la nostra bellissima applicazione in PHP, ma dobbiamo decidere quindi di come deployarla. Essenzialmente GCP ci offre cinque servizi e questi servizi si differenziano per il grado di controllo che noi vogliamo avere. Li vedete qui dall'alto verso il basso, in alto avrete i servizi in cui vi è il maggior grado di controllo, di customizzazione, in basso invece sono quei servizi che sono altamente gestiti da Google. Allora, prima di tutto abbiamo il computer engine che è il classico servizio di Google per poter creare le virtual machine. Qui ovviamente avete il massimo controllo, lato negativo però dovete gestire le virtual machine con aumento dei dischi rigidi, patch di sicurezza, sistema operativo, eccetera, eccetera. Secondo servizio invece è il GKPI, Kubernetes Engine. È il servizio in cui Google ci offre un cluster di Kubernetes in cui andrà a gestire soltanto il master. E noi dovremo invece preoccuparci dei nodi, quindi dovremo deployare le nostre applicazioni containerizzate, occupandoci quindi di definire manifest YAML e pubblicarle su Kubernetes Engine. Quindi questo è un classico servizio che vi permette un grado di controllo buono utilizzando delle applicazioni containerizzate. Dopodiché avremo i tre servizi che vediamo successivamente, sono i servizi serverless di Google. Questi li vedremo nel dettaglio, che sono il focus oggi del Meetup. Prima tra tutti è il primo servizio lanciato serverless da Google, è App Engine. È un servizio in cui dovremo preoccuparci soltanto di deployare il nostro codice senza preoccuparci dell'infrastruttura, in quanto il codice andrà su dei runtimes definiti da Google e sarà Google a gestire quindi l'infrastruttura, gli aggiornamenti, lo scaling, il network e tutto il resto. Noi dovremo preoccuparci quindi solo del codice e del versioning. Vincoli sono dovuti dal fatto che App Engine arriva in due versioni, avremo una versione standard e una flexible. La versione standard possiede solo dei runtime limitati, infatti avremo pochi linguaggi di programmazione che sono Python, Java, PHP e Go. Mentre con il servizio flexible offerto da Google i runtime sono limitati, in quanto potremmo definirlo noi il nostro runtime anche se non è presente all'interno di Google. Il dato negativo è che il flexible non scala a zero rispetto allo standard, ovvero mi spiego meglio, con la versione standard se la nostra applicazione è ferma, quindi non avremo richieste, non saranno indebitati i costi, in quanto non sarà attivata nessuna istanza. Con il flexible invece almeno un'istanza sarà sempre attiva. In questa strada potete vedere il dettaglio, le differenze nel dettaglio, oltre a quelle che abbiamo detto, quindi dei runtime e della questione di poter scalare a zero o meno, ci sono altre piccole differenze. Ad esempio lo standard viene addebitato a secondi, mette il flexible in minuti, con lo standard è possibile entrare all'interno delle macchine con le stesse hack, eccetera. Ma sono veramente piccole differenze. In ogni caso vi consiglio sempre i runtime, le versioni di tipo flexible, in quanto contengono i runtime più recenti e permettono di poter definire anche linguaggi di programmazione se non sono presenti diversi, se non sono presenti già all'interno di Google. Altro servizio serverless che è presente nella GCP sono le Cloud Function. Cloud Function è un servizio che io definisco veramente figo, in quanto permettono di poter deployare delle singole funzioni all'interno della GCP e queste funzioni possono rispondere a dei trigger a degli endpoint HTTP o a degli eventi che sono scatenati all'interno stesso di altri servizi GCP. Ovvero ad esempio se noi pushiamo un file all'interno del bucket di GCP è possibile definire il trigger della Cloud Function. Oppure rispondere ad eventi che vengono scatenati sulle code del servizio PubSub di Google. Ha il vantaggio di avere dei costi che sono veramente bassissimi e delle velocità di esecuzione elevatissime. Anche queste possono scalare a zero e pensate che le prime 5 milioni di richieste a mese sono gratuite. Ha il vincolo però di possedere, di avere dei runtime veramente solo 4 è possibile utilizzare. In questo caso PHP non c'è, si può utilizzare Node.js, Python, Go e recentemente è stato aggiunto Java che è ancora in beta. E infine l'ultimo servizio serverless che vi presento della GCP è Cloud Run. Cloud Run è un servizio in cui è possibile deployare la nostra applicazione containerizzata senza preoccuparci quindi minimamente dei cluster, senza nemmeno di occuparci dei nodi del servizio di cluster di Google. Sarà gestire, gestirà tutto Google. Ha il vantaggio come le Cloud Function di poter scalare da zero. Anche in questo caso abbiamo 5 milioni di richieste gratuite al mese da parte di Google. Ha l'unico vincolo il fatto di dover utilizzare delle applicazioni di tipo stateless, perché non avendo accesso a cluster non possiamo definire né volume né nient'altro. E quindi è possibile solo utilizzare applicazioni stateless. Quindi questi sono un po' tutti i servizi di serverless di Google. Adesso quindi la smetto di annoiarvi con le slide e magari vediamo come deployare un'applicazione PHP utilizzando il servizio App Engine di Google. Per adesso tutto chiare o avete domande? Per adesso tutto chiare o avete domande? Perfetto. Allora. Per adesso tutto chiare o avete domande? Allora, per fare ciò vi ho preparato un'applicazione scritta utilizzando Symfony. Vi mostro come funziona. Vedete PHP Storm o siete ancora bloccati? Grazie sullo schermo sulla presentazione. PHP Storm. Lo vedete? Ok. Grazie. Allora, questa applicazione è un form con cui è possibile pushare un file, qualsiasi file, su un bucket di GCP. In questo modo vi mostro anche come entregare altri servizi della GCP. Per fare ciò ovviamente sarà necessario avere dei permessi nell'autenticarsi contro la GCP e quindi arrivare sul bucket di Google. Per fare ciò è necessario utilizzare dei servizi di Google. Per creare un service account veramente semplice, basterà farlo dalla console di Google. Da qui potete creare il service account. Si crea quindi un file JSON. Dalla sezione invece IAM della console potete dare i diritti al service account dicendo in questo caso che vogliamo che vada a scrivere all'interno dei bucket di Google. In questo modo nel caso di il service account venisse rubato ha uno scope limitato di accesso all'interno della console. Il service account poi sarà utilizzato da un servizio. Qui sarà passato quindi a questo servizio e quindi l'applicazione potrà pushare il nostro file all'interno del bucket. Ora vi mostro quindi questo è un po' come funziona l'applicazione. Vi mostro come deployarla utilizzando invece App Engine. Grazie a tutti. Allora per pushare la nostra applicazione quindi su App Engine è necessario definire un file YAML che di default deve essere nominato in app. All'interno di questo file viene definito l'environment, il tipo di environment ovvero come dicevamo se il servizio che vogliamo è di tipo standard o flexible. In questo caso stiamo usando il flexible. Ancora abbiamo il nostro runtime che in questo caso utilizziamo PHP. Qui in questa sezione definiamo le nostre environment, le nostre variabili di ambiente. Ancora qui invece definiamo dove si trova il nostro file index.php, in che cartella, in questo caso in public. Con questo valore invece andiamo ad attivare l'integrazione dei log con il servizio stack driver di Google. In questo modo tutti i log saranno pushati, integrati direttamente all'interno del servizio di Google. Invece con quest'ultima sezione automatic scaling possiamo definire il numero minimo delle nostre istanze e il numero massimo. In questo caso ho forzato tutto a uno per avere una sola istanza attiva. E in questo caso invece con questo valore viene definito qual è il target necessario che determinerà lo scaling della nostra istanza. In questo caso al 50% di utilizzo della CPU App Engine scalerà su più servizi. Ancora, allora per deployarla sarà semplicemente necessario lanciare questo domando che è gcloud app deploy. Con gcloud app deploy automaticamente ci autenticheremo con il nostro account Google sulla console e pusheremo sulla nostra applicazione. Ho già fatto in precedenza in quanto il deploy dell'applicazione impiega circa 5-6 minuti, quindi non voglio annoiarvi. E potete vedere che una volta che il deploy sarà finito, potete accedere nella sezione App Engine qui di Google. Avrete qui... Avrete qui, scusate... Ed è qui in version, vedrete la vostra versione deployata. Il nome della versione, se non è indicato, sarà generato un numero random da parte di Google. Qui indicherà che l'applicazione è attiva, non è stoppata. Il traffico è al 100% su questa versione. E abbiamo un'istanza attiva, come è indicato all'interno dei file YAML. Se clicchiamo su... Quindi accederemo alla nostra applicazione, questa volta deployata però su Google. E potete vedere che possiamo provarla, anche testarla, se pusciamo ad esempio un file. Questo file sarà indirizzato direttamente al bucket di Google. Eccolo qui. Quindi questo è un po' come... Veramente come rapidissimo deployarla con App Engine. Tuttavia, ha anche altre funzioni veramente utili che voglio mostrarvi. E in particolare con App Engine è possibile anche poter deployare più versioni e applicare una sorta di canary deploy, ovvero effettuare un traffic splitting in percentuali che definiamo noi su due versioni. In questo modo potete ad esempio testare nuove funzionalità di una... Nel caso, non so, di un sito di e-commerce. Qui aggiungiamo una funzionalità. È possibile vedere quale delle due versioni di sito, di portale e-commerce, possa convertire maggiormente, utilizzando quindi un traffic splitting tra le due versioni. Per fare ciò, si può fare da console. Basterà deployare due versioni di applicazioni. Quindi stesso processo che abbiamo fatto prima, ma questa volta andando a indicare il nome delle versioni. Vi ho preparato due versioni identiche dell'applicazione che però si distinguono per il colore del template in atto. Possiamo vederle... Qui. Queste sono le due versioni. Blue deploy e green deploy, le ho chiamate semplicemente. Per settare il traffic splitting è necessario... È possibile farlo da console. Qui diciamo, ad esempio, in questo caso ho detto che il 50% del traffico può essere indirizzato o al green deploy o al blue deploy. I criteri di split possono essere random o anche per IP address o cookie. Quindi nel caso di IP address, lo stesso IP vedrebbe sempre la stessa versione. In questo caso ho inserito random. Per poter accedere quindi a questa versione con lo split traffic, bisognerà andare nella sezione service e cliccare sul nome del servizio che ho dato. Il nome del servizio viene sempre definito all'interno del file YAML. Basterà aggiungere una nuova voce con service e il nome del servizio e rideployare quindi l'applicazione. In questo modo l'applicazione sarà raccolta all'interno di un unico servizio. Potete vedere anche qui. Questo è il nostro servizio iniziale default. Mentre quello non redis che raggruppa le due versioni dell'applicazione. Se clicchiamo su, accediamo al file. In questo caso, come dicevamo, abbiamo una versione green deploy. Se refresciamo la nostra applicazione in maniera random, accederà anche sulla blue deployment. Con un traffic splitting che questa volta abbiamo settato al 50%. È possibile effettuare traffic splitting anche da console. Il comando è gcloud app service, set traffic, il nome della versione su cui vogliamo applicare il traffic splitting, il nome del service, scusate, su cui vogliamo applicare il traffic splitting, il nome delle versioni e la percentuale di split che vogliamo dare. E infine, ultimo parametro è il criterio. By random, by IP address o cookie. Quindi questo è, come potete vedere, quindi il servizio App Engine ti dà anche un servizio di split traffic che può essere veramente utile, cosa che non c'è nemmeno in servizi come Kubernetes Engine. Ma tuttavia può nascere tuttavia un problema con un deploy di questo tipo. In caso, ad esempio, di applicazioni stateful, cosa succederebbe se abbiamo uno split traffic e la sessione verrebbe salvata all'interno di un'istanza, ad esempio, e poi viene contattata una seconda istanza. Per mostrarvi questo problema ho preparato un secondo path. in cui, ad esempio, con questo form con questo form è possibile salvare nella sessione una chiave valore in questo modo. Se lo facciamo, ad esempio, su un'unica istanza, non avremo nessun problema perché sarà sempre la stessa istanza ad essere contattato, perché abbiamo una sola istanza. Ma se abbiamo il traffic splitting, quindi contatteremo delle istanze, oppure App Engine ha scalato l'applicazione su due, tre istanze, questo potrebbe creare dei problemi. Infatti, se rifresciamo la pagina, come potete vedere, già va in errore perché comunque Symfony manda un token di verifica, contattando poi il Green Deploy avremo quindi errore. Se risalviamo, rifresciamo. Scusate, sento Pasquale, la batteria. Sì, ho un problema, si sta surriscaldando il PC per questo motivo, l'ho staccato. Quando arriva al minimo la ricolleggo. Non saprei come continuare, se finisci. No, no, tranquillo. Quindi, se rifresciamo, vediamo che appena contatta la Blue Deployment, questo determina un errore. Quindi, come potremmo risolvere questo problema? Per questo vi mostro un altro collegamento, un altro servizio utile che può essere della console di Google, che è un Redis gestito, che viene definito in Google Map Cache. Quindi potremmo attivare un servizio Redis, che in questo caso troviamo qui. Per attivarlo bisognerà effettuare un enable dell'API. Qui dovrebbe essere già attivo. Come potete vedere, lo attiviamo, ci viene fornito quindi un IP e basterà nella nostra applicazione Symfony, quindi dirgli di salvare la sessione, non all'interno, in modo semplice all'interno dell'applicazione, ma utilizzando un servizio esterno che può essere Redis. Per questo vi ho preparato anche un altro branch in cui potete vedere anche la configurazione per collegarla a Redis. Ok, quindi qui passiamo al Redis Host, che andrà a collegarsi quindi alla nostra istanza di Redis gestita sulla GCP. E analogamente come abbiamo fatto prima, deployeremo le nostre due versioni di App Engine in Green Deployment e in Blue Deployment, quindi cambiando il template. e non vi annoio con l'attesa perché, come dicevamo, è sempre nell'ordine dei 5-6 minuti e le troverete già, le vedete già qui, deployate. qui nel raggruppate sotto il service Redis. Ho applicato anche questo, come abbiamo fatto prima, in maniera analoga a un traffic splitting del 50%. Accediamo quindi a questa versione. E qui, come potete vedere, se salviamo adesso, come abbiamo fatto prima, la nostra chiave valore in sessione, già nel push ha inviato la richiesta e è passato al Green Deployment e come potete vedere non c'è stato nessun problema. se raffresciamo, raffresce tranquillamente senza generare nessun errore. In questo modo perché adesso abbiamo un punto comune dove salvare la nostra sessione che è il nostro valore in cache, che è il nostro Redis gestito. Questo era un po' il tutto per mostrarvi come funzionano i servizi App Engine. Come dicevamo, tutti i longings vengono salvati all'interno del servizio di monitoring all'interno di Stackdriver, la suite Stackdriver di Google, che abbiamo qui. Possibile vederli, vengono automaticamente passati dall'applicazione da Google. È possibile fare il debug dell'accedere all'interno dell'applicazione remota in questo modo, cliccando sull'istanza qui. All'interno del servizio di Google. In questo modo possiamo entrare direttamente all'interno dell'istanza che ha messo su Google. All'interno del servizio di Google. Se fate così, potete vedere anche che non sono altro che i runtime di Google, non sono altro dei container che vengono messi su e automaticamente da Google con la nostra applicazione all'interno. Questo vedete il nostro deployment e potremo anche con questo comando vedere i logs del container o entrarci dentro, classicamente come in modo semplice come facciamo con Docker. Questo è un po' tutto per mostrarvi un po' come funzionava il servizio serverless di App Engine e le integrazioni con vari servizi. Non so se avete domande. Sì, sì, la batteria lo so. Ciao, sì, io ho una domanda. È possibile utilizzare App Engine anche con altri tipi di framework? Tu hai fatto l'esempio di Symfony, ma è possibile usarlo anche con altri framework? Sì, sì, il runtime è PHP quindi puoi usare qualsiasi framework qualche vuoi di PHP. Poi addirittura con il Flexible come ti dicevo puoi mettere su anche un environment custom con un linguaggio di programmazione che non è definito ancora da Google e puoi usare quel linguaggio di programmazione che non trovi che a differenza dello standard che invece in quel caso puoi utilizzare solo PHP, Java, Go e Node.js. Ok, grazie. Nulla. Ciao, buona domanda. Ho visto che appunto c'era il file app.yaml, giusto? Tu mettevi dentro i vari parametri. Sì. Però, quindi, non devo inserire i parametri dentro il file di config? Dentro l'embo devo comunque inserirle anche lì dentro? No, no, puoi inserire le tue variabili d'ambiente ad esempio direttamente nel file app.yaml e lì poi saranno pushate disponibili nel runtime di PHP. Perfetto, grazie. Nuno. Che silenzio imbarazzante. Altre domande? Sono sempre io, scusami. Sì, sì. È comunque gestibile anche tramite interfaccia? Ti voto prima per il log se è entrato tramite terminale. Sì, sì, sì. Puoi vederli anche da interfaccia ti mostro. Come ti dicevo con quel comando di integrazione di Stackdriver i logger poi vengono passati automaticamente a Google. Che ho il PC che è frizzato qua. a Google Scusate ma mi si è frizzato il PC? In ogni caso basterà accedere a Stackdriver, Logging e da lì poi hai la tua sezione App Engine in cui puoi vedere gli stessi log che abbiamo visto entrando nel Docker. Ok, grazie. Sì, poi aggiungendo la cosa carina è che anche i log e il bucket possano essere utilizzati anche al di là dell'App Engine o altro perché sono delle SDK che si installano senza grossi problemi col composer e li si può utilizzare indipendentemente, che sono dei servizi che sono fatti bene e hanno un senso anche per i fatti loro diciamo. Non so se vedi ancora il mio schermo, questo è come vedresti il logger dall'interfaccia. A livello di costi quanto mi costerebbe tenere l'applicazione per esempio che hai messo tu online? Quindi quella specie di, chiamiamola, file manager più Redis senza alcun database. Ha dei costi bassissimi, potresti usare il calculator di Google, ma per lo storage i costi possono essere... Per lo storage i costi possono essere legati in base al tipo di storage che tu vai a attivare. Puoi avere servizi in cui i costi sono più alti se fai tante movimentazioni sullo storage oppure se tu lasci il tuo file sullo storage senza che venga toccato in maniera frequente. Quindi nel caso di un backup di file che non ci devono essere molte operazioni, i costi diventano molto più bassi. In ogni caso si prende un'istanza di App Engine ad esempio deployata in Belgio. 24 ore per 30 sono 720. Abbiamo esagerato un po'. Abbiamo esagerato un po' di distanza. 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 al mese Sì, giusto per dare un'altra cosa sui costi, noi che usiamo log e bucket senza App Engine eccetera nelle nostre applicazioni che pubblichiamo praticamente non abbiamo costi cioè le storie di Google sono talmente alte che non è completamente gratuito Sì, sì, poi come dicevo prima ad esempio su altri servizi ci sono delle storie altissime le Cloud Fashion, le prime 5 milioni sono gratuite, 5 milioni al mese di chiamate veramente elevata come soldi Grazie Altre domande? O è tutto chiaro o li hai stesi tutti? Ho una domanda io Ciao Ciao Ho visto che è possibile schedulare anche dei lavori ho visto una roba cronjob sulla parte quindi metti un processo batch che devo lanciare e fare qualcosa posso gestirlo oppure ho visto nell'interfaccia che era cronjob quello cosa serve? Per fare dei lavori schedulati tipo stile crontab di di Linux è una cosa fattibile sento un tubo ragazzi Il microfono è disattivato Mi sentite adesso? Sì Adesso mi sentite? Sì Sì Vi dicevo sì è possibile farlo come abbiamo visto prima con il file app.yaml in quel caso è possibile definire un file cron si chiama per google deve essere nominato in modo cron.yaml e lì all'interno definire il tuo job veramente molto semplice ma mi basta no Io ho un'altra domanda Sì Quindi tu prima hai fatto un deploy direttamente su un app engine giusto? Sì Quindi lui in automatico ha eseguito il composer e tutto quanto? Sì Ho fatto tutto in automatico ho messo su un web server engine x se vedi nei logger Lancia anche npm c'è lancia anche npm in base al linguaggio che andrai a utilizzare puoi utilizzare come vedevamo tra i vari linguaggi c'è java go e python Grazie Penso che si riferisse più che altro se c'è da qualche parte uno script per la build da definire da qualche parte dove fargli il composer installo lo fa lui in automatico no no lo fa lui in automatico il composer e se dovessi definire degli altri parametri come appunto metti caso che io non sto deployando un php ma sto deployando un app in view piuttosto che in angular appunto mi serve magari il npm invece che il composer utilizzare una cloud function che è compatibile in view stai utilizzando quindi javascript ecco spiegato perché non fa l'npm a meno che non sia in flexible a meno che si non utilizzi un flexible dove definisci tu il tuo runtime con un docker file ah ok questo magari può essere un successivo meetup comunque lo facciamo vabbè che potrebbe essere un modo comodo per mostrare delle demo dei clienti per mandare su degli ambienti senza grosse pretese e da da fare del demo praticamente si va bene qualche altra domanda sembrerebbe di no ok direi che possiamo passare quindi alla conclusione Pasquale ok saluti presentazioni le tue richieste no vabbè allora vi ringrazio quindi tutti però prima di lasciarvi volevo dirvi che come azienda stiamo cercando un frontender quindi nel caso qualcuno fosse interessato può inviarmi un'e-mail e niente ringrazio tutti passo la parola a te Dan se vuoi chiudere perfetto io vabbè ringrazio tutti faremo anche un prossimo meetup il mese prossimo adesso vediamo su chi argomento tutto quanto non vediamo l'ora di tornare a farli di persona perché comunque per quanto possa essere interessante zoom senza birra è un'altra cosa e niente ringrazio tutti mi scuso per il problema del link che vi ho mandato poi la mail alla fine ma abbiamo fatto casino con le stanze e ho pubblicato un link sbagliato sul meetup giustamente la prossima volta cercheremo di fare meglio ooooh 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 ooooh